Ciao sono Magnus e ritorniamo sempre qui su Love of the Fallen mentre sto parlando sto andando avanti perché praticamente c'è questa cosa fondamentale che non ho sblocchiato visto che non avevamo sblocchiato questa cosa nel frattempo vi racconto che ho sblocchiato, ce l'ho potenziato l'arma al massimo quindi dovremmo adesso stare un po' più tranquilli, almeno lo spero però vedremo poi all'atto pratico come ci comporteremo ecco, avevamo perso una tonno salta come lo battiamo qui o la? è un cecchino poi sta lontanissimo, vediamo se riesco un attimo a dribblarlo aspetta è cagato il Gino eh allora, allora ho una scarsa di questo e ci hai rotto le falle madonna santa ragazzi allora, ehm preghiamo di capito, la situazione si rende... non riesco a beccato quello che è stato a Gino eh eh no lui addirittura mi vede già da qua ragà, incredibile allora come fa... ah ecco, forse mi devo parare qua ma là ci sta una cosa eh allora aspetta un attimo di là grazie grazie, sei in amore, guarda allora vediamo un po' ce la facciamo la relazione sta diventando un po' insostenibile eh non si riesce perché è andata, è andata non cadere, non cadere ok è andato, è andato, è andato mi sposti da qua oh, e vai donna santa perché non lo... io non cadisco perché a volte... allora dobbiamo stare attenti perché... perfetto, ce ne stanno... insacrata, insacrata... allora dobbiamo stare attenti perché là ci sta qualcosa eh vedi? la giallo là sta ma vaffa devo anche spostarmi se è possibile magari vediamo di farli venire qua eh ecco qua aia che cazzo sta facendo? ecco qua occhio è andato? è andato, sì occhio, occhio, occhio proprio, parca miseria, mi becca dappertutto questo aspetta, vediamo se dovrei capire se lo riesco a becchiare ok dai, mi dispiace per te ancora sta... dovrei cercare di becchiarlo questo questo mi dà veramente tanto fastidio eh ok ok lo so che lo abbiamo beccato in maniera... stupita ma non possiamo morire così ok allora un momento soltanto che però giù c'era secondo me un sacco da recuperare quindi ci aspettate un attimo vediamo di capire dove possiamo andare allora eh occhio ho sbagliato ho sbagliato ho sbagliato allora qua dov'era? ho visto che ci sono diverse zone che si possono raggiungere allora là addirittura nella frittata non ho neanche preso aspetta qua c'è qualcosa eh questo è poco poca roba allora c'era qua niente ma se decidiamo di aprire il nostro rischio eh lo so lo so lo so ok là ma è solo una cosa per accorciare quindi ma era solo per accorciare quindi questo eh si vediamo un po' no faccio qualcosa faccio un rischio vabbè il ca il ca no c'è il c'è un giavellotto cioè e qua secondo me ci stiamo appena in quando in una zona sbagliata eh aspetta un attimo ok quindi chi non lo becchia questo? e dai che c'hai? ok chi vuole? scusate scusate non riesco a beccare ho paura che qualcuno vi beccara dietro eh c'è un problema qua perchè? ah e scarica la cosa porca che c'è un' che c'è un' che c'è un' che c'è un' che bello che bello avessi sempre il mio preferito guarda avessi sempre il mio preferito me ne vado me ne vado perché muo me ne vado perché muo e moriamo come un cretino eh muo come un cretino dai quindi me ne vado no no vai e dai ti prego mo si deve caricare parca vediamo se lo riesco a caricare da qua eh è morto è morto è morto è morto è morto è morto via 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 c'è qualcosa non più che dobbiamo prendere? no eh no 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 via 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 no ti toglierà le palle e dai andiamo 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 siamo nella merda siamo nella merda non mi fa blocchiaggio non mi fa blocchiaggio no vado non me lo blocca guarda mi devo fregare un attimo quello che sta la il vigore tanto la abbiamo recuperato tutto la la il vigore non penso tanto la non c'era non c'era più niente dalla sbaglio ma quello che stava la sola che ci sparano in continuazione e ci siamo a dove è finito e che autogiuca fatto forse è quello sai che è quello eh ma di la strada ci sta inizio vado vado no 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 non rischio di andare appena a tutto il vigore c'ho tre cose andiamo avanti dai ma niente sarà appena l'altra volta adesso sa sa rie di livello è diventata veramente un ossessivo chi è che è vado al blocchiaggio vado al blocchiaggio vado al blocchiaggio come è bello il blocchiaggio che fai? io adoro il blocchiaggio di questo gioco ancora non ci siamo caricati eh che fai? ok vado di cadere allora questo mi fa ancora male qua si toglierà questa roba qua a terra voglio vedere ok vediamo il funzionino balestra aspettate che ho visto dei video dove la balestra è fenomenale eh ha veramente tanta roba qui c'è qualcosa qua solo questo solo questo vado vado oh oh poi dici che uno si cazza eh allora attenzione manco ma questo mi ha seguito fino a giugno di più qui c'è qui c'è qui c'è qui c'è uscire, incredibile allora io penso che qua si avanza sicuramente ah no ma qua ci sta una cosa da mettere, aspetta facciamo così si recuperiamo anche i nostri cose di vita infatti con 2000 di rigore che potenza questa che ha, niente qua si passa no non mi riposo nemmeno perché sennò si rigenerà tutto l'impossibile ah qui si aveva la porta eh no allora abbiamo mica entri no eh si poi ci entriamo aspetta allora no pronti guarda capite chi mi ha becchiato prima guarda capite chi mi ha becchiato prima guarda ecco qua ecco qua ma peccato porca ma nemmeno sempre morire così stai tanto se ci dobbiamo ah va non riesco a becchiato io quello ok 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 io cadi una cosa Ma questa la prospettiva lo inganna eh No, proprio meno male Almeno quello Dove vado di qua? Non so neanche dove sto andando A cosa recuperare Perché se non è neanche più La scala nostra non è neanche quella Questa? No Allora aspetta un attimo Chi è? Dove cavolo sto andando Aspetta Oh no 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 Dove sto? Ma che giro tu? Aspetta Aspetta Vai Vediamo se riesca a scappare Vediamo se la madonna ci assiste E ce ne andiamo No 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 non ci assiste la madonna La madonna non ci assiste Ma è ora un'altra parte Aspetta Aspetta Qua non so se abbiamo già battuto Sto canne No no T'abbiamo già battuto V CORRI O CITO E ne vau Trasso di merda Sto ricadendo giù E ne vai E ne vai va basta abbiamo già battuti questi qua quindi è inutile vai 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 è utile impegnarsi un'altra volta e basta madonna santa raga non ce la faccio più questo gioco basta 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 abbiamo già fatto la già recuperato basta 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 vaffanculo vai 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 battene battene questa non l'ho capita però non fa niente ok mi riposo matti ma dai così recupero tutto quello che c'è da recuperare tanto non ci possiamo ma c'è 5.000 di rigore non riesco più a me vediamo qua dentro che ci sta vedo tanto sangue questa zona mi tragisci è troppo lì sembra ma non ho capito se assistiamo a un combattimento ma contro chi o un combattimento ma solo difende A presto. Sì, sì! carne rossa va fea va bene ok va bene così c'è nel senso che va bene non è capito bene però no ok qua si scendeva va bene angosciosa eh sta zona questo getto vuole il samaro pensa che dobbiamo andare sopra eh va bene va bene magari sono migliorati e molto migliorati in pace la qualcosa che si poteva prendere dove stiamo? non ci stiamo, allora dove non ho tanto? ok fate un attimo che sta iniziando a dare il pallone è tutto tale arco, 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 allora a questo punto dobbiamo andare ma che sono belli sti momenti guarda c'è proprio è una gioia proprio dobbiamo prendersi così no no qua non c'è niente qua, qui sta qua ok è andato è andato allora occhio lasci qualcosa cazzo che è caduto ok ah sei tu intessente allora andiamo ah ecco gli effetti non c'è niente ok andata andata ce ne vogliamo andare andrei anche felice anche ma tra l'altro non so manco dove sta forse sta qua grande ok non l'avevo visto questo non l'avevo proprio visto ok quindi saliamo ma stiamo attenti perché ho visto che in fondo ci sta basta che c'è qua vai ok non si recuperiamo due cose siamo a posto ma tanto non penso che ci possavano neanche potenziale allora questa non si apre comunque continuo a sentire sempre di gemiti oh Ok. 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 Comunque vi dico una cosa, il bloccaggio di questo gioco è una merda. Ogni volta tenete il nemico vicino... Devono migliorare tanto questo bloccaggio perché a volte... No, no. Ok. Qua? E mo? Ciao ragazzi, dove devo andare secondo voi? Di giù o di su? Non so perché, ma qua ho l'impressione che incontro il boss. E invece giù no, ma lo so perché. Qua c'è solo ne... ne... Ok. Piccolo frammento. Ma questa porta mi... non mi... Ok, questa è una porta che si dà gitto. Vabbè. Quindi avevamo ragione. Poi sono mi detto che ci ho beccato scudo della luce perforante. Quindi... Potrebbe essere una grande cosa. Questa si apre, eh. E quindi recuperiamo un'altra parte. Ah, devo rimettere un'altra volta al sime. Questa è una santa vergine. Scudo della cosa perforante. Vediamo che questa è scudo della cosa perforante. Allora abbiamo detto scudo perforante, scudo della cosa perforante. Perforante... Perforante... Qui è un po' pesante però, eh. Non mi piace. Quando sono pesanti non... Non li gradisco perforanti. Perforanti. C'ho sei. Io sinceramente... Meglio che non ci riposiamo. Grazie al nostro anellino siamo riusciti a recuperare tutto. E allora mi sa che andiamo di qua verso il boss. Penso sia il boss. Non lo so. Sembra che ci sia un'altra zona... Quando è così stretta... Ah no. Ah. Giustamente. E giustamente. Ok. Ma... C'è uno che sparava, non fallo? Ma... Hai visto il tocchiaggio come continua a rompercire l'auro? Non ci sta niente qua, eh. No. Ma... No. 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 La mia immaculata non vuole essere distrutta, Pietà. Questa malattia, questa corruzione, che sposte all'interno del Regno, è fuori di controllo, e i nostri esforzi per la scuola hanno diventato in calice, ma persone, anche i nostri amici e amici, sono soffri e morti. Siamo parlando per il giudice Clerico, Pietà. Se che lei abbia bisogno di te, te saranno insieme. Per chi si tratta di corruzione, potremmo solo proverano che i nostri amici non sbagliati di salvezza, dopo tutto. Non lo so, ti incontenisce paricchio, sicuro. Siamo arrivati. Vabbè, vado a salire di livello, quindi penso che possiamo andare anche un po' di più avanti. Allora, ah, vado un attimo al centro, vado a recuperare un po' di roba. Aspetta, ci abbiamo 25, non posso manco salire di livello. Oh, aspetta, possiamo potenziarci qua. Segata a 5 minuti di recupero, wow! Sghiacciaci nuovo in testa, dai! Grazie, grazie, ciao, ciao. Vediamo se riusciamo pure a... Niente, non abbiamo potenziato una mazza. Ma vabbè. Partiamo già con questo, intendo, già con ricordo. Voi. As you bless these flowers with your radiance and help them flourish, so too bless me, so I may help all of my loyal brothers and sisters flourish and continue to prove myself worthy of their faith. This land has no much darkness, but together, with hope and devotion in our hearts, we will not only stand ever vigilant in its defense, but guide its ascent into your loving life. Ok, ci conviene, sicuramente, toglierla, perché... Ehm... Stiamo a proprio di qua si passa, quindi... Forse conviene prima... Farli fuori... Poi, eventualmente... Andare, eventualmente, a disattivare. Sì, preso! Uh, ma lo c'è sempre... Attenzione, attenzione, non ho capito. La donna, ragazzi, sta proprio... Tutti qua state, eh? Vai, cazzo! Ebbah, quanto cazzo che tu vuoi stai? È scomparsa. Non puoi morire, eh? Ai, ya! Ah! 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 Oh, e basta Oh, ma cura Madonna, santa, che due palle Oh, ma ci sta ancora qui Ma è un altro Ma si è formato un'altra orca Oh, ma c'è chiapto Oh, ma c'è chiapto Oh, ma c'è chiapto Ma non ho manco capito dove c'è chiapto stava prima Cioè, è uscito un altro, non ce n'erano tre Questi l'avevano già giocato Allora, là non c'è niente Ma come si va andando? Non c'è qualcosa Ma che effa Dove che erano stiamo andando? No c'è chiapto Oh, ma c'è chiapto Oh, ma c'è chiapto Mi piace il vostro consul Ma il vostro presso A me rende fortuna E' quello che ho bisogno La fortuna che hai Deve essere qui Io li proteggerò Anche se si deve sbloccare da qualche parte Da dove? Ok, va Devo saltare o? No, non penso che sia bloccato Eh no Allora, non penso che non ho capito Eh Ah Raga, egia Allora, piglia essa cosa andiamo Sì, stupido E' andata in alto Che cazzo di mandare? Ah, no Ma Ah, che due paolo No, raga Io non ci credo Ma non ci credo Veramente Guarda Ah, è un gioco Che ti nervosisce tantissimo Guarda Vi dico la verità Veramente E' un dito nel fio Guarda Dove cavolo devo andare? Ok Ok Boh Se noi capiamo Dove dobbiamo andare Fammi capire una cosa Aspetta Quindi non avanza ancora Ma non ce la fa No No, a meno che non c'è qualcosa Che ti vuole recuperare Ma non avanza Di qui Ah, ma Ma poi si chiude La sembra Come se ci stiamo All'ora Stai avanzando Stai avanzando Madonna Dai Ok Ok Lo rupo Porca di quella miseria Ma che fa Schifoso Dove vai Dove vai Qua devi andare Ok Vai Ma quello che è un boss Ok 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 Che è un assassino? Aspetta che è un assassino che devo fare Ok, questo è morto e questo è morto, avanti Attenzione che non so quanto potremmo durare di qua e di là C'è qualcuno che... no Eccolo qua Non è vero ma non so Non è vero ma a un parco Non è vero ma non so Quasi passa no? No Questo è un pozzile Chiave della chiesa Ma la chiave della chiesa è quella che sta giù Perché ne sappiamo Qual è la chiave della chiesa Questa è la cosa brutta Cioè alla fine Spero che sia quella che aveva chiesa Ma Soprido di sene Dai Puttiamoci nella cacca Dai Questo dovrebbe essere Che cosa per Eh bravo Io me ne andrei E anche super rapidamente Sperando che la chiave della chiesa Sia proprio quella che abbiamo Becchiato giù Ok Vabbè ragazzi Io questa parte La termino qui Nella speranza che laggiù Sia veramente Qua La chiave della chiesa Che poi devo per farlo No Possa farlo tranquillamente Scendendo Penso Pensa vero Sì 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 Me lo farò sicuramente Scendendo Scendendo Con molta calma Doll Grazie galliam Robella Grazie a tutti Ich toccaria In Chezie a tutti Grazie.